Siamo in conferenza, ovviamente anticipando la visita al presepe vivente di Panettieri. Ringraziamo la Proloco di Panettieri per l'ottima organizzazione, per l'invito, l'ospitalità, l'accoglienza e do subito la parola al Presidente Giuseppe Gentile, che ancora una volta ringrazio come Presidente Provinciale dell'Umbli. Buonasera a tutti e benvenuti a Panettieri. Io vi ringrazio per la vostra presenza per essere qui a visitare il nostro presepe che è giunto alla diciottesima edizione, di cui io mi onoro di Presidente della Proloco che organizza insieme all'amministrazione comunale. Ringrazio tutti voi presenti, Presidente Provinciale e Consigliere Nazionale. Mi scuso perché aspettavamo la presenza del Presidente Nazionale che purtroppo per motivi di salute non ha potuto raggiungerci. Speriamo che ci riesca a raggiungere domani. Non ho null'altro da raggiungere. Passo la parola al Presidente Provinciale. Grazie Presidente. Saremo veramente veloci, telegrafici. Ovviamente passo la parola e ringrazio per la partecipazione il Presidente regionale dell'Umbli, Filippo Capellupo. Un minuto per ringraziare la Proloco e tutti i componenti della Proloco di Panettieri e chiaramente anche le istituzioni, quindi il sindaco e l'amministrazione. Perché Panettieri è diventato un centro importantissimo della Calabria per questa manifestazione e per altre magari, ma questa è quella di spicco che chiaramente è il fiore all'occhiello per l'Umbli calabrese. Vedete, quando io vado in altre nazioni trovo l'albero di Natale e i grandi alberi di Natale fanno grandi effetti. Per noi che abbiamo e che siamo di una certa religione, quello che conta invece è il presepe. Quando viviamo dei momenti con un presepe come questo o come quell'altro che è stato fatto anche a Pentone e tante altre Proloco dei Calabresi, significa realmente realizzare quello che si ha nel cuore nell'ultimo periodo dell'anno quando realmente succede il grande miracolo. E allora riportare il miracolo attraverso il lavoro delle Proloco per me è la cosa più bella del mondo. Auguri veramente a tutti quanti noi. Grazie Presidente e grazie ovviamente all'amministrazione comunale di Panettieri. Sono insieme a noi nella logica delle sinergie e della cooperazione il GAL dei Due Mari e il GAL Savuto Tirreno Serre Cosentine. Quindi passo la parola subito alla rappresentante del GAL dei Due Mari, la dottoressa Sacco. Ben trovati e soprattutto auguri. Questa felice coincidenza ci fa ritrovare oggi in una situazione che rappresenta un po' non solo le nostre tradizioni ma la nostra identità. Il GAL che rappresento è il GAL dei Due Mari che vede come primo comune limitrofo il comune di Carlopoli ma il GAL dei Due Mari e il GAL STS hanno effettivamente più territori confinanti. Questo ci permette anche di portare avanti la sinergia anche attraverso progetti di cooperazione che stiamo sviluppando insieme e non solo. Perché il compito del GAL non è altro che quello di valorizzare il territorio e di promuovere lo sviluppo. Noi cerchiamo di farlo insieme come giusto che sia creando la rete dei GAL ed è per questo che oggi siamo ben felici di ritrovarci qui a Panettieri a promuovere, a sponsorizzare il presepe che dà lustro non solo a Panettieri ma effettivamente a tutto il territorio. Io ringrazio per l'invito coloro che appunto hanno voluto la nostra presenza e ringrazio quindi l'UMPLI ma anche il GAL STS nella figura del Presidente perché è sempre un piacere poter collaborare, poter lavorare insieme per migliorare la nostra terra e per dare la possibilità anche alla nostra terra di poter crescere. Quindi grazie e ancora auguri. Grazie Maria Antonietta. Ovviamente come anticipava il Presidente regionale portiamo anche i saluti del Presidente nazionale UMPLI che a causa di un malanno non può essere insieme a noi ma si riserva di poter visitare il presepe giorno 6. Passo la parola per le conclusioni al Presidente del GAL STS e nonché Vice Sindaco del Comune di Belmonte Calabro, l'ingegnere Luigi Provenzano. Poi saluterò ovviamente le prologo presenti e tutta la squadra della prologo di Panettieri col Segretario, il Vice Presidente e tutti gli altri. Presidente Provenzano a te le conclusioni. Io ringrazio per l'occasione concludere. Vi voglio solamente augurare un buon anno perché hanno detto già tutti quelli che mi hanno preceduto. Noi in realtà come Galle, anche se in maniera diversa, ma cerchiamo di sostenere i nostri territori, cerchiamo di promuovere le nostre aziende, cerchiamo di mantenere i giovani su questi nostri territori con difficoltà. diciamo che mentre le prologo lo fanno in maniera volontaria, quindi questa è una virtù che pochi riescono a mantenere e a portare avanti, però diciamo che anche noi tutto sommato non abbiamo grandi compensi per cui lo facciamo proprio per cercare di aiutare e sostenere le nostre popolazioni. C'è una collaborazione, speriamo che anche per questo anno questa collaborazione possa andare avanti nei migliori dei modi, anche perché lo dico senza lavare la faccia a nessuno, Antonello, il vostro Presidente provinciale, è un ragazzo che sta lavorando, che si tiene sui territori anche con l'aiuto e la collaborazione naturalmente della nostra Presidente, dei Presidenti di tutte le prologo e soprattutto di Antonio Isabella che è costretto a fare l'autista di giorno e di notte. Quindi auguri di nuovo a tutti quanti. Grazie, ovviamente chiudiamo ringraziando le prologo presenti, prologo Belmonte Calabro rappresentata dalla dottoressa Ruggiero, Giovanna Ruggiero, nonché consigliere regionale, dalla prologo San Pietro in Amantea Francesca Guido, nonché componente del Collegio dei Revisori, dalla prologo Campora San Giovanni rappresentata da Antonio Isabella, nonché mio Vice Presidente, poi passo per le altre province al Presidente regionale. Ovviamente invito tutti poi ad avvicinarsi, così ci facciamo una foto di rito, proprio come emblema di valorizzare e promuovere sempre di più questo grandissimo evento legato al Presepevivente che poi rappresenta un evento marketing interessante e importante. Presidente regionale... Devo aggiungerne altre tre. Catanzaro, certamente rappresentata da me, Badolato rappresentato dal consigliere regionale Pietro Pirosso, poi Squillace rappresentata dal componente Squillace e il Comitato Provinciale di Catanzaro e chiaramente un po' altri amici che sono presenti e che noi salutiamo veramente con tutto il cuore per la partecipazione e per aver sposato questo evento bellissimo che io spero che sia sempre così bello come lo abbiamo conosciuto negli anni passati ma in futuro che sia sempre più grande. Soveria è quella che in questo momento ci sta coordinando i lavori per cui la ringraziamo non per ultima ma per prima. Grazie veramente di cuore. Grazie a tutti, avvicinatevi che ci facciamo la foto e grazie a Liberi TV. e il vicepresidente e il segretario che ovviamente saluto da parte del Presidente anche perché il vicepresidente sono i motori della Prologue di Panettiere. Io li stresso continuamente ma sono anche a parte dei motori il futuro, rappresentano il futuro della Prologue di Panettiere. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti.